Sono una squadra che l'anno scorso hanno sfiorato la Serie A, hanno fatto gli spareggi, hanno preso i 4-5 giocatori migliori di categoria nei ruoli, perciò dichiaratamente è una squadra che ha fatto tutto per puntare alla Serie A. Nel primo tempo si è visto la loro forza, la loro abilità, proprio la loro compattezza in tutti i reparti, veramente ho visto una squadra di grandissimo livello. Poi dopo nel secondo tempo capite il gol e tutto quanto si stravolge. Sono contento per la mia prima doppietta con l'Albino Leff, che per me è stata una grande soddisfazione. Adesso abbiamo una partita troppo difficile, martedì contro il Torino, contro una grande squadra e cercheremo di fare punti. È stato bravo il nostro portiere Tomasic a salvarci nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente una partita più di lotta, più di battaglia, che era quello che magari dovevamo fare sin dall'inizio. Se devo dire la verità, penso che la cosa che ha fatto la differenza è che siamo stati più squadra delle altre volte, perché a differenza delle altre volte, sai, alla prima occasione loro magari ti rilassavi perché ti sentivi di essere inferiore, invece oggi abbiamo giocato la pari con loro.